La storia della Terra inizia con i primi secondi della sua formazione. Si svolge da quasi 4,6 miliardi di anni. Segnata da estinzioni massicce, episodi catastrofici, ma anche periodi di stabilità, la Terra non smette mai di evolversi. Il misterioso pianeta blu dell'universo è l'unico oggi conosciuto a ospitare una forma di vita umana. Ecco uno sguardo indietro al suo accrescimento e alla sua evoluzione. Per rappresentare più facilmente la scala temporale, i valori di miliardi e milioni di anni sono ridotti a 12 ore, cioè a un giro di quadrante. La creazione della Terra avviene dalle 0000 e l'anno 22 è rappresentato dalle ore 12.00. Durante queste 12 ore attraverseremo quattro periodi cronologici, l'Adeano, l'Archeano, il Proterozoico e il Fanerozoico. Caro viaggiatore, bentornato! Oggi torneremo indietro nel tempo per scoprire i misteri della formazione del nostro pianeta e tutti quegli incredibili fenomeni che rendono la nostra Terra così unica. Prima di partire per una nuova avventura, pensa a mettere un like al video e a iscriverti al canale per non perderti nulla. Grazie e buon viaggio! Il primo periodo è l'Adeano, che dura mezzo miliardo di anni ed è la più antica divisione del tempo geologico. È qui che inizia l'orologio a 12 ore. Ore 0000, l'accrezione della Terra 4,54 miliardi di anni fa, l'accrezione della Terra inizia con la formazione del Sole. Qualche milioni di anni prima, il collasso gravitazionale di una piccola parte di una nube molecolare ha fatto apparire la nostra stella. Intorno al giovane corpo celeste si forma un disco di gas e polvere. Questi granelli si raggruppano lentamente fino a formare piccoli corpi solidi. Le primizie dei pianeti in via di formazione, i planetesimi. Sotto l'effetto della gravità, questi planetesimi raggiungono un diametro di alcuni chilometri, formando alla fine embrioni di pianeti e ripulendo il disco dalla polvere originaria. Più le orbite sono lontane dal Sole, più sono massicce, perché trovano più materiale da agglomerare lungo il loro percorso. Dopo una certa distanza dal Sole, i pianeti sono in grado di attrarre i gas delle nubi, fatte di idrogeno ed elio, fino a collassare su se stessi, dando vita a giganti gassosi che ben conosciamo, Giove e Saturno. Essendo Urano e Nettuno più piccoli, non conservano i gas, ma solo il loro nucleo di roccia e ghiaccio. I pianeti che si formano più vicini al Sole sono detti tellurici, composti da rocce e metalli. Vengono colpiti violentemente quando le loro orbite si incrociano, a tal punto che ne rimangono solo quattro, Marte, Venere, Mercurio e la Terra. La formazione di tutti questi pianeti dura 100 milioni di anni. Ore 00.06. La formazione della Luna. Teia, un protopianeta, vaga in una zona stabile del cosmo, alla stessa distanza della Terra dal Sole. Quando raggiunge le dimensioni del pianeta Marte, Teia viene destabilizzato dall'influenza gravitazionale degli altri pianeti. La sua orbita diventa caotica e si scontra violentemente con la giovane Terra in formazione, 4,52 miliardi di anni fa. L'urto è così violento che il nucleo di ferro di Teia precipita nel cuore della Terra. Il resto del pianeta e parte del mantello terrestre vengono espulsi dal cosmo. Tutti questi materiali in orbita intorno alla Terra finiscono per riunirsi e dare vita al satellite che è la Luna, a circa 22.500 chilometri. La Luna stabilizza l'asse di rotazione della Terra e rallenta questo stesso movimento grazie al fenomeno dell'attrito mareale che spiega come in questo momento un giorno duri solo 6 ore e un anno conti 1434 giorni. Ore 0022 La formazione della crosta terrestre 60 milioni di anni dopo la formazione della Luna, la superficie della Terra subisce importanti impatti di corpi di dimensioni modeste che provocano un rilascio di calore. Questa energia cinetica si trasforma in energia termica. Anche gli elementi radioattivi come il potassio o l'uranio, ancora poco disintegrati, producono calore che si aggiunge a quello derivante dalle collisioni. La Terra iniziale è molto calda. Non potendo evacuare questo calore, esso viene immagazzinato, fonde le rocce e forma un oceano di magma. Mentre finora era abbastanza omogenea nella sua struttura fisica e chimica, la Terra inizia a distinguersi. Il ferro e il nickel, gli elementi pesanti, affondano sul fondo dell'oceano magmatico e si accumulano al centro del pianeta sotto l'effetto della gravità, dando vita al nucleo metallico. I silicati, elementi più leggeri, rimangono in superficie dando forma al mantello terrestre. A poco a poco, il magma sulla superficie della Terra si solidifica e sul mantello si forma la crosta, con uno spessore che va da una a diverse decine di chilometri, si spacca in alcuni punti e si separa in placche, che sono i futuri continenti. Il mantello rimane liquido e la crosta può andare alla deriva come una zattera sul magma. Passano dieci milioni di anni e ora, all'interno del nucleo metallico, i movimenti provocano correnti elettriche che, a loro volta, inducono un campo magnetico che si mantiene fornendo un campo elettrico. Questo immenso scudo magnetico che si forma protegge la Terra dal vento solare, dannoso per la vita. Quest'ultimo allontana dalla Terra elementi leggeri come l'idrogeno, l'azoto o l'acqua. Grazie allo scudo, l'atmosfera viene mantenuta e le prime forme di vita sono protette dalle particelle ionizzate. Ore 00.54. L'inizio della formazione degli oceani. 4,4 miliardi di anni fa la Terra si sta lentamente raffreddando. La sua superficie solida è ricoperta di crateri, montagne e vulcani. Questo paesaggio è fertile. Come una Terra che sputa e tossisce, i vulcani rilasciano gas e vapore acque o contenuti nel magma. Fino a quel momento, la temperatura era così alta che l'acqua poteva esistere solo in forma gassosa. La temperatura scende lentamente a 350 gradi centigradi e, in combinazione con l'altissima pressione, il vapore si condensa e si trasforma in pioggia. La primissima pioggia sulla Terra, un'acquazzone torrenziale. Miliardi di molecole d'acqua provenienti dall'atmosfera diventano liquide e cadono a terra. L'acqua invade i paesaggi rocciosi, cola dai crateri, lungo le montagne. Questo accumulo di acqua nelle zone basse del rilievo copre la superficie della Terra e dà vita ai primi laghi e oceani. Il volume totale degli oceani si formerà in 50 milioni di anni. Il successivo periodo principale è l'Archeano, che dura 1,5 miliardi di anni ed è generalmente associato alla comparsa delle prime forme di vita sulla Terra. Ore 1 e 10 Il grande bombardamento tardivo 4 miliardi di anni fa inizia un lungo periodo durante il quale gli impatti meteorici e cometari vedono la loro espansione. È il cosiddetto grande bombardamento tardivo. In questo periodo, i pianeti giganti Giove, Saturno, Urano e Nettuno vedono la loro orbita riorganizzarsi con conseguente destabilizzazione dell'orbita di alcuni planetesimi del sistema solare esterno. Alcuni di essi ruotano verso l'interno fino a collidere con i pianeti tellurici. I crateri da impatto segnano la superficie della Luna, di Marte, di Mercurio e della Terra. Queste violente collisioni hanno conseguenze importanti soprattutto per la Terra. Essa viene colpita da asteroidi che possono raggiungere le dimensioni della Francia, ovvero mille chilometri. L'energia rilasciata durante l'impatto vaporizza parte degli oceani. Ore 1 e 57 La comparsa delle prime forme di vita L'acqua allo stato liquido è essenziale per la comparsa della vita sulla Terra. Un organismo vivente ha bisogno di energia come l'energia solare e l'acqua. La Terra offre un ambiente favorevole affinché semplici molecole organiche reagiscano chimicamente tra loro e si evolvano in molecole complesse come un essere vivente. A quell'epoca l'energia solare emessa è inferiore del 20-30% rispetto a quella attuale. Se l'atmosfera della Terra di 3,8 miliardi di anni fa fosse stata la stessa di oggi, il nostro pianeta si sarebbe congelato in poche centinaia di anni. La minore intensità della radiazione solare è ampiamente compensata da un'atmosfera carica di gas serra. Essendo il sole più freddo, la vita è meno sviluppata. L'anidride carbonica è poco utilizzata e precipita sotto forma di carbonato, mentre l'ossigeno è quasi inesistente. L'assenza di vegetazione fa sì che la composizione dell'atmosfera sia da 10 a 100 volte più ricca di CO2 rispetto a oggi. L'assenza di ossigeno lascia il metano, CH4, in questa forma per un periodo di tempo più lungo, poiché non viene trasformato in CO2. È molto presente nell'atmosfera. Grazie alla significativa presenza di gas serra, la Terra ha un clima temperato. Nonostante il sole freddo, l'acqua liquida è presente su tutto il globo. Le premesse per l'ingresso in scena delle prime cellule e per l'insediamento dei primi batteri negli oceani ci sono tutte. Numerosi cianobatteri o alghe blu-verdi si annidano nelle zone costiere, tra i limiti estremi delle maree. A quel tempo, i paesaggi terrestri assomigliavano stranamente a quelli della luna titano di Saturno di oggi. Ore 3 e 01 La comparsa della fotosintesi ossigenica I numerosi cianobatteri sono in grado di fissare la CO2 che riempie l'atmosfera costruendo stromatoliti. Queste costruzioni calcaree, sotto forma di ondulazioni ammassate o di ammassi simili a cavolfiori, sono segnate da esseri viventi. In grado di effettuare la fotosintesi, cioè di catturare CO2 e rilasciare O2, questi organismi provocano uno squilibrio nelle reazioni chimiche e fanno precipitare il carbonato di calcio. I fini accumuli di particelle si modellano in stromatoliti sotto forma di fogli di carbonato. Tre comunità microbiche compongono le stromatoliti, cianobatteri in superficie, batteri fotosintetici nello strato intermedio e batteri anaerobi nello strato inferiore. I primi organismi viventi compaiono nell'acqua. L'atmosfera terrestre è priva di ossigeno, hanno utilizzato la radiazione solare, un'energia leggera ed effimera, per trasformare l'acqua e la CO2 in carboidrati, un'energia immagazzinabile. Questa trasformazione genera un prodotto di scarto, l'ossigeno O2. 3,5 miliardi di anni fa, quest'ultimo è molto dannoso per gli organismi viventi. Alcuni organismi si sono quindi adattati fino a incorporare questi rifiuti nel loro metabolismo. Le prime molecole di ossigeno formatesi non si accumulano immediatamente nell'atmosfera, reagiscono prima con il ferro contenuto nell'acqua e formano l'ossido di ferro, che rimane limitato al mezzo liquido. Solo un miliardo di anni dopo, quando gli oceani saranno saturi di ferro, l'ossigeno inizierà ad accumularsi nell'atmosfera. Ore 04 e 01 la formazione dei primi continenti La costruzione dei continenti inizia sott'acqua. L'emersione subaerea dei primi continenti è associata all'inizio della tettonica a placche. Da 300 a 400 milioni di anni di attività oceanica hanno permesso la costruzione di un altopiano sottomarino, un ammasso progressivo di lava che raggiunge i 50 chilometri di spessore. A causa del peso di questo altopiano esso rimane sommerso nel mantello superiore. Per le leggi dell'isostasia il mantello tende a riequilibrarsi e spinge l'altopiano meno denso verso l'alto. Ore 04 e 20 La glaciazione di Pongola La terra ha un clima da caldo attemperato perché l'atmosfera contiene alti livelli di metano e anidride carbonica. Una diminuzione di questi livelli porta a una riduzione dell'effetto serra e a un'era glaciale. La glaciazione di Pongola è associata a cambiamenti negli isotopi dello zolfo che implicano un'ossigenazione precoce e furtiva dell'atmosfera terrestre. insieme all'archeano e all'adeano il proterozoico rappresenta l'85% della storia della Terra. Questo lunghissimo periodo vedrà la nascita delle prime forme di vita multicellulari e dei primi animali. Sono passati due miliardi di anni dalla formazione della Terra. Un giorno dura poco più di 12 ore e un anno ha 714 giorni. Durante la formazione della Terra gli elementi chimici si sono separati o concentrati. Alcuni nel nucleo metallico altri nel mantello litosferico. La tettonica a placche che ha avuto luogo ha fornito nuove condizioni di temperatura e pressione che hanno permesso a specifici minerali di prosperare. 1500 minerali sono presenti nei terreni più antichi della Terra. La produzione di ossigeno da parte degli organismi viventi presenti offre nuove condizioni ai minerali. Quelli che affiorano sulla superficie della Terra vengono ossidati un passaggio chiave nel mondo dei minerali con la comparsa di 2.900 nuovi minerali. Anche gli organismi viventi producono minerali specifici. Alla fine 4.400 minerali copriranno il paesaggio terrestre. La tettonica a placche sta cambiando. Fino ad allora la superficie terrestre era modellata da movimenti orizzontali ma anche verticali. Le comatiiti magmi caldi si depositano sulla crosta terrestre raffreddandosi e diventando più dense in superficie. A causa della gravità le rocce magmatiche sprofondano e formano strutture verticali. Entro 2,5 miliardi di anni fa le comatiiti sono scomparse e così anche la tettonica verticale. Rimangono solo i movimenti orizzontali e la Terra produce ora un diverso tipo di roccia. Ore 6 e 39 l'ossigeno si diffonde nell'atmosfera. La concentrazione di ossigeno è aumentata lentamente per alcuni milioni di anni a causa della comparsa della vita. Era comunque presente in quantità minime. 2,4 miliardi di anni fa la Terra ha sperimentato un picco nella concentrazione di ossigeno nell'atmosfera, la grande crisi di ossidazione o catastrofe dell'ossigeno. La concentrazione di ossigeno passa dallo 0,001% a circa il 20%. Finora l'ossigeno derivante dalla fotosintesi dei cianobatteri reagiva con il ferro presente negli oceani non accumulandosi né nell'acqua né nell'atmosfera. Ora il ferro marino è esaurito, l'ossigeno si deposita nell'acqua di mare e poi raggiunge l'atmosfera. Si tratta di una crisi ecologica decisiva che ha un impatto sugli organismi anaerobi. Inoltre l'ossigeno reagisce e ossida il metano atmosferico. La concentrazione di metano diminuisce drasticamente. la diminuzione dei gas serra nell'atmosfera provoca un raffreddamento e un susseguirsi di glaciazioni. È la terra a palla di neve. ore da 5 e 26 a 6 e 26 la grande glaciazione La vita raffredda il clima e porta a una successione di periodi di glaciazione e deglaciazione. 2,4 miliardi di anni fa la terra conobbe la prima glaciazione che fu anche la più lunga della sua storia. La superficie della terra è interamente ricoperta di ghiaccio da cui il nome di terra a palla di neve. Con la comparsa della vita compare anche l'ossigeno. Allo stesso tempo la CO2 viene intrappolata nei calcare in formazione generando una minore presenza nell'atmosfera. La riduzione del gas terra porta a una diminuzione della temperatura. Ricordiamo che in questo periodo il sole fornisce solo l'85% della sua energia totale. Sulla terra si raggiungono i meno 50 gradi centigradi per alcune decine di migliaia di anni. L'acqua è congelata, l'albedo aumenta poiché l'energia solare si riflette maggiormente sulle superfici bianche e ghiacciate. Il congelamento è accentuato. La terra appare come una palla di ghiaccio. Anche se questa situazione sembra catastrofica e irreversibile, gli strati interni della terra rimangono attivi. I vulcani emettono CO2 che si accumula sotto il ghiaccio fino al giorno in cui la terra diventa dirompente. Questa CO2 viene poi rilasciata nell'atmosfera accentuando l'effetto serra e riscaldando il pianeta. Segue un periodo di deglaciazione che dura alcune decine di migliaia di anni. Questo fenomeno di glaciazioni e deglaciazioni successive si verifica quattro volte in un periodo di 300 milioni di anni. ore da 6 e 11 a 7 e 46 la formazione e la scomparsa del continente Columbia. La terra è una sfera i suoi movimenti tettonici hanno come conseguenza quella di modificare l'architettura dei continenti. Il balletto delle placche chiamato ciclo di Wilson avviene sotto l'effetto delle forze tettoniche. I continenti sono spesso uniti in supercontinenti e poi frammentati. Circa 2,2 miliardi di anni fa i continenti primitivi si sono riuniti in un supercontinente chiamato Columbia. Misura circa 12.900 chilometri da nord a sud e 4.800 chilometri alla sua massima larghezza. 600 milioni di anni dopo la Columbia inizia a frammentarsi si forma una spaccatura continentale che si espande accompagnata da attività magmatica. Il continente scompare completamente dopo poche centinaia di migliaia di anni. Ore da 9.06 a 10.01 la formazione e la scomparsa del supercontinente Rodinia. 1,1 miliardi di anni fa il supercontinente Rodinia si forma dai vari frammenti rimasti della Columbia. Risultato della collisione tra due blocchi continentali l'antica parte del Nord America e il Sud America questo supercontinente è composto da quasi tutte le placche continentali dell'epoca. circondata da un oceano Rodinia si presenta come una grande pianura desertica color ruggine in cui si accumulano sabbie. Sono presenti numerose strutture sedimentarie e costruzioni biologiche come le stromatoliti. La vita non è ancora emersa dall'acqua perché l'atmosfera non contiene abbastanza ossigeno per sviluppare lo strato di ozono. Dopo alcune centinaia di milioni di anni Rodinia si frammenta in diverse masse continentali a causa dei movimenti interni della Terra. Le masse continentali della Terra sono in continuo movimento a volte raggruppate a volte separate. Durante la formazione dei supercontinenti il calore interno della Terra può essere evacuato solo per conduzione che non è molto efficiente. Si accumula quindi portando a un aumento della temperatura sia del mantello superiore sia della crosta inferiore. La densità delle rocce diminuisce e se salgono in superficie adottando le forme di cupole che si rompono e permettono al magma di rifondersi. 850 milioni di anni fa si forma un superdomo. Si fende e lascia salire la lava creando delle trincee di collasso. Dopo qualche milione di anni l'acqua riempie le fosse e forma nuovi oceani. Ore da 10.06 a 10.20 Glaciazione sulla Terra 750 milioni di anni fa Rodinia scompare. I piccoli frammenti dell'ex supercontinente si trovano vicino all'equatore. La temperatura diminuisce e si estendono grandi superfici ghiacciate. Queste superfici riflettono maggiormente la radiazione emessa dal sole rispetto agli oceani più scuri e il raffreddamento aumenta. La Terra si congela per uno spessore di oltre un chilometro diventando una Terra a palla di neve. La vita trova rifugio sul fondo degli oceani grazie alle particolari proprietà dell'acqua. Mentre la temperatura dell'acqua diminuisce in superficie fino a 4 gradi centigradi la sua densità e il suo volume aumentano forma una corrente e affonda garantendo l'omogeneizzazione della temperatura su tutta la profondità. Quando la temperatura scende sotto i 4 gradi centigradi il ghiaccio in superficie forma una protezione termica anche durante i periodi di freddo estremo il fondo dell'acqua dei laghi o degli oceani non congela consentendo ad alcuni organismi viventi di sopravvivere. La vita rimane confinata nell'acqua le molecole che compongono la materia vivente sono fotosensibili potrebbero essere distrutte se sottoposte a certe radiazioni in particolare ai raggi ultravioletti. 600 milioni di anni fa l'ozono si è formato e accumulato naturalmente nella stratosfera. Questa molecola composta da tre atomi di ossigeno assorbe i raggi ultravioletti proteggendo così gli organismi viventi dai loro effetti nocivi. In quel momento si raggiunge una prima soglia di concentrazione formando lo strato di ozono che ha ripercussioni sulla diversità marina. Favorevole allo sviluppo della vita quando si trova oltre i 15 chilometri di altitudine l'ozono è particolarmente ossidante e pericoloso se si trova nell'aria che ci circonda. Ore da 10.24 a 10.34 La formazione e la scomparsa del supercontinente Pannotia Un nuovo supercontinente si forma in seguito a violente collisioni Pannotia si disgrega qualche milione di anni dopo durante una fase attiva della tettonica a placche Questa rottura come tutte le altre favorisce la diversificazione delle specie è così che si è sviluppata la fauna marina dell'Ediacarano Gli organismi multicellulari con corpo molle apparvero circa 585 milioni di anni fa Privi di uno scheletro mineralizzato la loro forma è molto varia e straordinaria al punto da beneficiare di un nome specifico la fauna Ediacarana Questi organismi hanno l'aspetto di dischi tubi o sacchetti soffici Sono state contate solo 100 specie Questa prima emanazione della diversificazione degli organismi pluricellulari è di breve durata poiché scomparirà 40 milioni di anni dopo Il Fanerozoico è un periodo molto più breve dei precedenti continua ancora oggi sul nostro orologio manca meno di un'ora e mezza al nostro presente ciò che accadrà in questo eone è di grande importanza per l'uomo eppure rappresenta solo una minima parte della storia della Terra Ore 10 e 34 Esplosione Cambriana I primi esseri pluricellulari 541 milioni di anni fa nell'arco di pochi milioni di anni apparvero improvvisamente grandi quantità di organismi pluricellulari forme completamente nuove diedero origine ai grandi fila metazoici e a una grande diversità di specie animali vegetali e batteriche una delle caratteristiche delle specie di questo periodo è la comparsa di tessuti duri sotto forma di scheletri mineralizzati vengono ritrovati piccoli fossili con conchiglie che rispondono alla necessità di proteggersi da eventuali predatori un oceano l'apeto che separava il continente baltica dal continente laurentia si chiude sotto l'impulso della tettonica a placche 530 milioni di anni fa sorge una catena montuosa un gigantesco complesso montuoso chiamato catena caledoniana si erge al posto di quello che oggi è il nord dell'europa e dell'america ed è soggetta a una forte erosione le terre del canada di terra nova della groenlandia della scandinavia della scozia della gran bretagna e delle ardenne sono in questo momento molto vicine la luna si trova a 360 mila chilometri dalla terra 30 milioni di anni dopo le maree oceaniche sono frequenti e potenti il mare si ritira molto lontano e invade notevolmente i continenti la vita era fino ad allora contenuta nel mezzo liquido un'evoluzione decisiva avviene 480 milioni di anni fa da quel momento in poi piante simili a licheni e muschi si stabilirono sulla terraferma hanno adottato strategie per resistere al disseccamento alcune sono in grado di rinascere altre sono ornate da cuticole impermeabili che consentono lo scambio di gas limitando la perdita di acqua queste piante si aggrappano alle rocce grazie alle punte forniscono la materia prima per la degradazione dei microorganismi ore 10 e 49 estinzione dell'ordoviciano siluriano 445 milioni di anni fa la terra subì la prima grande crisi della vita durante l'ordoviciano che dura da meno 485 a meno 443 milioni di anni prima della nostra era la temperatura degli oceani scende di 15 gradi centigradi la vita che non poteva prosperare in un ambiente a 45 gradi centigradi si rallegra della nuova condizione e gli oceani intorno ai 30 gradi centigradi diventano teatro della comparsa di una moltitudine di specie appaiono nuovi gruppi mentre quelli esistenti si diversificano intorno a meno 445 milioni di anni si verifica un significativo raffreddamento accompagnato dall'instaurarsi di un'era glaciale la glaciazione provoca un abbassamento del livello del mare e la scomparsa delle zone di acqua bassa che erano un luogo favorevole allo sviluppo della vita questo evento che dura circa 10 milioni di anni porta alla scomparsa di molte specie marine soprattutto di quelle bentoniche rimaste sul fondo del mare la durata di un giorno è di 22 ore 400 milioni di anni fa viene raggiunta una seconda soglia di ossigeno e ozono che porta all'uscita dalle acque dei primi artropodi terrestri che si insediano gradualmente sui continenti questo è possibile perché le piante che li hanno preceduti hanno offerto loro il cibo necessario al loro sviluppo una volta usciti dall'acqua gli animali devono muoversi per trovare il cibo e sviluppare una strategia di mobilità hanno un sistema vascolare interno e si idratano mangiando o bevendo acqua la riproduzione rimane dipendente dall'ambiente acquatico le piante che producono semi le spermatofite si sviluppano lentamente circa 390 milioni di anni fa gli elementi che assicurano la riproduzione non sono più le spore ma i gameti il seme permette il trasporto degli elementi riproduttivi e garantisce la propagazione della specie si tratta di uno sconvolgimento nel mondo della botanica poiché la riproduzione delle piante si libera dalla dipendenza dall'acqua e diventa aerea nel devoniano si verifica un episodio di estinzione dovuto a un forte raffreddamento le aree lontane dalle grandi masse continentali sono colpite dalla mancanza di ossigeno la moltiplicazione delle piante consuma molta anidride carbonica per la fotosintesi causando un abbassamento della temperatura e anossia negli ambienti marini il 75% delle specie marine e quasi tutto l'ambiente della barriera corallina scompaiono ore 11.03 inizio del carbonifero inizio del periodo carbonifero caratterizzato dalla deposizione di grandi strati di carbone le masse continentali si uniscono i primi grandi alberi compaiono in abbondanza e si perpetua una grande varietà di piante si sviluppano i brachiopodi e troviamo grandi anfibi e i primi rettili ore 11 e 12 fine del carbonifero la comparsa di nuove specie di funghi lignivori provoca la degradazione di tutta la lignina e la fine della formazione del carbone ore 11 e 12 la formazione della pangea pangea un supercontinente si forma dalla collisione di laurussia e protogonduana che in precedenza raggruppavano tutte le masse terrestri quasi tutte le terre integrano pangea il supercontinente alla forma di una c e presenta una vasta catena montuosa al suo centro è circondato da un enorme oceano chiamato pantalassa e racchiude nell'incavo della sua mezzaluna l'oceano tetide la formazione di pangea ha ripercussioni sulla vita poiché si riduce la superficie delle acque costiere che in precedenza ospitavano molte specie marine le terre della pangea centrale divennero desertiche a causa della loro distanza dai mari e della diminuzione della frequenza delle precipitazioni 258 milioni di anni fa la terra subì eccezionali eruzioni vulcaniche che sconvolsero il mondo vivente su scala planetaria ed ebbero un forte effetto sul clima l'attuale monte Emei in Cina emette colate di lava che coprono 330.000 km2 con uno spessore di 1 o 2 km viene rilasciata una grande quantità di CO2 vapore acqueo gas terra e gas solforosi la luce solare viene attenuata a causa delle particelle emesse un calo della temperatura precede un brutale riscaldamento legato ai gas emessi ore 11 e 20 fine dell'era primaria grande crisi del Permiano Triassico nell'attuale Siberia si verifica una grande eruzione vulcanica cumulata con l'eruzione avvenuta 6 milioni di anni prima e con le conseguenze della formazione di Pangea gli effetti sono catastrofici per la vita questa crisi del Permiano Triassico è la più importante che la terra abbia mai attraversato è chiamata la grande estinzione nei continenti scomparve il 70% delle specie e negli oceani il 95% delle specie marine tutti i gruppi sono stati colpiti alcuni sono stati sradicati come i trilobiti o i microorganismi marini unicellulari altri sono stati decimati come i gigli di mare le felci o i brachiopodi da quel momento in poi la biodiversità si è evoluta in modo diverso 230 milioni di anni fa inizia lentamente il regno dei più famosi animali fossili i dinosauri caratterizzati in gran parte dalle loro straordinarie dimensioni i dinosauri sono molto diversi tra loro esistono da 200 milioni di anni e si trovano in tutti i continenti in molte forme diverse la maggior parte di essi è terrestre ma alcuni sono volanti bipedi quadrupedi carnivori o erbivori i più grandi pesano fino a 100 tonnellate e altri come il micro raptor hanno le dimensioni di un pollo hanno sviluppato ogni sorta di innovazione scheletrica e tegumentaria come corna creste e piume i rettili arcosauri sono stati i primi a occupare le nicchie ecologiche lasciate libere durante l'estinzione del permiano triassico accompagnati da erbivori che si sono uniti a loro molto presto contemporaneamente sull'attuale Europa si forma una crosta salina gli oceani inondavano frequentemente le terre emerse senza alcun rilievo lasciando sali che nel corso degli anni si sono accumulati fino a diverse centinaia di metri di spessore poiché il sale è più leggero della maggior parte delle altre rocce tende a salire in superficie attraverso i diversi strati geologici quando si forma una catena montuosa i livelli che contengono il sale che è più malleabile si deformano per primi e quando gli strati di terra si muovono il sale si posiziona per formare la base in questo modo si conferisce alla roccia una struttura particolare che intrappola più facilmente l'acqua il petrolio o l'olio un meteorite cade verso la terra entrando nell'atmosfera si frammenta e colpisce il pianeta con una raffica di impatti nell'arco di diverse ore si verifica un urto molto violento a una velocità di circa 20 km al secondo che lascia dietro di sé un cratere di 21 km di diametro e modifica le rocce in profondità attualmente si trovano crateri da impatto in Canada Francia Ucraina Stati Uniti e San Marten 200 milioni di anni fa il meteorite Roche-Couart che ha impattato in Francia vicino a una costa poco profonda ha innescato un terremoto di magnitudo 8,2 e ha generato un grande maremoto che ha investito la terraferma fino a 1300 km di distanza Ore 11 e 28 Estinzione del Triassico Giurassico La Pangea che ha iniziato a fratturarsi si spezza separando il Nord America e l'Africa si formano due nuovi supercontinenti separati dall'Oceano Atlantico Gondwana e l'Aurasia la terra passa da un clima fortemente occidentale a un clima oceanico Nuove ondulazioni oceaniche si attivano e causano l'innalzamento del livello del mare Nuove superfici continentali vengono sommerse e la biodiversità può rifiorire A causa delle terre separate le possibilità di riproduzione e di scambio genetico tra gli individui sono limitate Le popolazioni diventano specie a sé stanti in ciascuno dei due continenti Questo rimescolamento dei continenti provoca la diminuzione della diversità biologica attraverso una massiccia estinzione Quasi il 20% delle specie marine e gran parte dei vertebrati terrestri scompaiono Questa estinzione triassico-giurassica permette ad altre specie di emergere nel giro di pochi milioni di anni I dinosauri ben diversificati difficilmente soffrono di questa crisi Pangea è in piena frammentazione le fratture medio-oceaniche sono attive e innalzano il livello medio del mare le zone continentali si dividono mentre le zone costiere si espandono La terra subisce improvvisi cambiamenti climatici passando dal raffreddamento al riscaldamento 182 milioni di anni fa in seguito a un episodio vulcanico che produce grandi efflussi e un forte degassamento di metano I cambiamenti nelle correnti oceaniche si sono aggiunti a questo contesto già squilibrato per la vita Gli scambi tra acque fredde e calde stanno diminuendo così come l'ossigenazione dei fondali oceanici Questa piccola crisi ha un impatto soprattutto sugli organismi marini ma rimane meno drammatica delle estinzioni di massa A seguito di varie innovazioni evolutive specifiche alcune specie di dinosauri sono diventate piumate oltre al loro ruolo di isolamento termico le piume di diversi colori permettono di stabilire una comunicazione tramite segnali visivi o di proteggere le uova hanno un ruolo locomotorio significativo alcuni dinosauri hanno iniziato a volare colonizzando nuove nicchie ecologiche sfuggendo più facilmente ai predatori e migliorando le proprie capacità di caccia grandi emissioni di lava modellano grandi altopiani e annunciano la separazione del Sud America e dell'Africa che erano ancora fusi insieme 10 milioni di anni dopo si verifica un alluvione segno della frattura delle due terre che diventerà l'oceano atlantico meridionale ore 11 e 49 fine dell'era terziaria estinzione cretaceo paleogene 66 milioni di anni fa in una provincia magmatica dell'India occidentale si sono accumulate enormi colate di lava chiamate trappole del Deccan la successione delle eruzioni permette l'accumulo di lastre di lava con uno spessore fino a 2400 metri le ripercussioni di queste ultime sull'ambiente e sul clima sono notevoli grandi quantità di vapore acqueo anidride solforosa e CO2 vengono rilasciate nell'atmosfera il vapore acqueo si trasforma in nuvole bianche e diventa un potente gas serra i vapori di zolfo si trasformano in piogge acide e la CO2 è un gas serra gli organismi non sono in grado di adattarsi a questi cambiamenti climatici contemporaneamente un meteorite si polverizza sulla terra creando un cratere da impatto di 180 km di diametro sull'attuale Messico i suoi componenti si disperdono nell'atmosfera e cadono in luoghi diversi creando un'anomalia di composizione un'abbondante quantità di polvere si solleva creando uno scudo alla luce solare e una notte quasi permanente simile a un inverno artificiale la crisi Cretaceo-Paleogene precedentemente nota come Cretaceo-Terziario si verifica contemporaneamente a questi ultimi eventi sebbene non sia la più catastrofica delle cinque grandi estinzioni causando la perdita di solo il 6% delle specie viventi sui continenti rimane la più significativa per i dinosauri non aviari scomparsi Per quanto riguarda le specie marine si è estinto il 76% delle loro specie questa estinzione ha un forte impatto sulla biodiversità alcune specie sono scomparse lasciando il campo libero ad altre come i piccoli mammiferi per diversificarsi e svilupparsi questa transizione dal mondo delle ammoniti e dei rettili a quello dei mammiferi e dei pesci avviene in modo brutale all'inizio della sua frammentazione Pangea si separa in due blocchi l'Eurasia e Gondwana che contiene la placca che costituirà l'India qualche milione di anni dopo un punto caldo di vulcanismo separa l'India dal Sudafrica finché qualche tempo dopo un passaggio un passaggio marino li separa l'India continua il suo percorso e 65 milioni di anni fa nel mezzo dell'attraversamento dell'oceano Tetide passa sopra un punto caldo di vulcanismo che accelera il suo movimento l'India l'India si sposta quindi verso nord fino a scontrarsi violentemente con l'attuale Asia questa violenta collisione ha dato origine all'Himalaya in superficie e a particolari minerali come gli smeraldi birmani nelle sue profondità si verifica una crisi climatica con conseguenti episodi ipertermali il principale dei quali è chiamato massimo termico del Paleocene e Ocene questo evento è dovuto alla destabilizzazione termica degli idrati di metano presenti nei sedimenti che porta a un significativo rilascio di metano nell'atmosfera la temperatura dell'oceano profondo si riscalda di circa 5 gradi centigradi e raggiunge i 10 gradi centigradi le acque superficiali si aggirano intorno ai 23 gradi centigradi e sono a 20 gradi centigradi nella zona artica questo riscaldamento generale sconvolge il ciclo del carbonio ed è accompagnato da una crisi biologica con l'estinzione di circa il 40 per cento delle specie di foraminiferi bentonici e la comparsa dei principali ordini di mammiferi moderni il titanoboa un rettile a sangue freddo che pesa fino a una tonnellata è apparso in questo ambiente caldo e umido nell'africa orientale è in atto la tettonica a placche le placche araba nubiana e somala si sono separate per formare la great rift valley profondi solchi di crollo che misurano più di 6.000 km con una larghezza media di 50 km 30 milioni di anni prima l'India andò alla deriva e si scontrò violentemente con l'Asia lasciando un'enorme catena montuosa come risultato di questa collisione durante la collisione blocchi continentali sono stati espulsi e grandi faglie si sono propagate dividendo il cuore del continente e spingendo due parti verso il pacifico la conseguenza di questa collisione qualche milione di anni dopo è la formazione di due penisole Malesia e Indocina la tettonica a placche apre il passaggio di Drake tra la terra del fuoco e l'Antartide e il passaggio della Tasmania tra Australia e Antartide 35 milioni di anni fa queste aperture si sono approfondite e hanno creato una corrente la corrente circumpolare antartica che ha isolato termicamente l'Antartide questa corrente combinata con una diminuzione della CO2 atmosferica che riduce l'effetto serra causa il congelamento totale dell'Antartide formata dall'accumulo di rocce vulcaniche l'isola di Islanda emerse dalle acque 24 milioni di anni fa il vulcanismo dell'isola è iniziato 30 milioni di anni prima durante la separazione tra il nord Europa e la Groenlandia l'Islanda fa parte di una catena montuosa sottomarina con rilievi che misurano dai 3.000 ai 4.000 metri una caldera è una grande depressione equivalente al collasso di una camera magmatica che è stata svuotata durante un'eruzione la caldera di Yellowstone si è formata 17 milioni di anni fa quando la placca americana si è posizionata sopra un punto caldo teatro di gigantesche eruzioni in cui il calore viene evacuato sotto forma di geyser questo immenso apparato vulcanico è abitato da organismi che si adattano alle condizioni di vita estreme 7 milioni di anni fa apparve il più antico mini-deconosciuto il suo nome Tou Mai più di 350.000 generazioni lo separano dal nostro tempo lo scheletro più completo mai trovato finora ha 3,2 milioni di anni 52 ossa di un'australopiteco femmina che è stato chiamato Lucy donna è morta soli 20 anni è alta circa un metro e 10 e pesa 25 kg secondo il suo scheletro post-craniale è bipede e ha un'attitudine alla vita arboricola inizialmente è stato considerato come l'antenato dell'uomo moderno ma alla fine è stato relegato come un cugino della nostra stirpe ore 11 e 59 le glaciazioni del quaternario l'era quaternaria è iniziata 2,6 milioni di anni fa è il periodo più recente della scala dei tempi geologici è caratterizzata dalle glaciazioni e dalla radiazione evolutiva del genere Homo almeno 17 periodi di glaciazione si sono susseguiti separati da periodi interglaciali questa successione di cambiamenti climatici genera cicli di estinzione e ricolonizzazione degli ambienti e diversifica le specie sui continenti si formano lastre di ghiaccio che modellano il paesaggio attraverso il fenomeno dell'erosione glaciale in seguito alla chiusura dell'istmo di Panama si verifica un trasferimento di mammiferi tra il Sud America e il Nord America chiamato grande scambio interamericano istrici formichieri e armadilli si spostano a nord mentre cavalli cervi elefanti e procioni si spostano a sud all'inizio questo fenomeno è piuttosto equilibrato dopo un milione di anni di mobilità i mammiferi del Nord continuano a vivere e a migrare verso sud mentre quelli originari del Sud si estinguono o sono pochi 2,5 milioni di anni dopo solo il 10% dei mammiferi settentrionali è di origine meridionale mentre la metà della fauna meridionale è di origine nordamericana compare un nuovo genere di ominidi bipedi ben distinto dal genere astralopithecus già presente sulla terra si tratta del genere Homo Homo habilis è la prima specie rappresentativa del genere 2,4 milioni di anni fa in Africa in seguito compariranno diverse specie distribuite nei diversi continenti Homo rudolfensis e Homo ergaster sono solo di origine africana l'Homo neandertalensis è conosciuto in tutta l'Eurasia tutti sono caratterizzati da un costante bipedalismo da una maggiore capacità cranica e da attività culturali come riti funebri o creazioni artistiche ore 12 meno 10 secondi comparsa dell'Homo erectus l'Homo erectus compare in Africa ma in seguito conquisterà gran parte dell'Eurasia e dell'Indonesia costruisce capanne e migliora le tecniche di intaglio è all'origine di nuovi comportamenti nella stirpe umana perché si adatta molto alle esigenze umane e alle condizioni di vita locali molto prima di addomesticarlo i rappresentanti del genere Homo utilizzavano il fuoco che nasceva naturalmente dai fulmini e lo sfruttavano spontaneamente un milione di anni fa gli ominidi usavano il fuoco e beneficiavano di tutti i suoi vantaggi innanzitutto veniva utilizzato per cucinare per ottenere un gusto migliore e anche per eliminare gli agenti patogeni potenzialmente presenti negli alimenti il fuoco serviva anche come arma di protezione contro gli animali selvatici o tra le popolazioni per non parlare del calore e della luce che fornisce aprendo la porta all'inizio di una vita sociale ore 12 meno 6 secondi la scomparsa dell'Homo Erectus nonostante i grandi progressi compiuti dall'Homo Erectus grazie ai suoi strumenti la sua capacità di innovazione e adattamento non è sufficiente per mantenersi ed evolversi sulla Terra l'Homo di Neanderthal entra nella storia della razza umana poco più di 250.000 anni fa comparso da prima in Europa occupò in seguito tutta l'Eurasia è fisicamente più piccolo e più massiccio dell'Homo sapiens si distingue per l'ispessimento delle ossa sopra le orbite la fronte arretrata e l'assenza del mento il suo cervello più grande del nostro non indica che fosse diverso da noi in termini di capacità intellettuali ha lasciato in eredità all'uomo moderno una parte del suo patrimonio genetico il che suggerisce che l'uomo di Neanderthal e l'Homo sapiens fossero così vicini da riprodursi a un certo punto ore 12 meno 5 secondi la comparsa dell'uomo moderno la stirpe umana si differenzia qualche centinaio di migliaia di anni fa con la comparsa dell'Homo sapiens è l'unico rappresentante attuale del genere Homo dal punto di vista fisiologico si distingue per il cranio arrotondato e voluminoso l'assenza di una protuberanza sovraorbitale un mento prominente e una pilosità poco sviluppata il suo modo di locomozione al suolo è interamente bipede l'Homo sapiens si distingue anche per l'esistenza di relazioni sociali e di un linguaggio articolato e complesso e per l'uso di abiti ha sviluppato tecniche per addomesticare la natura ha colonizzato tutti i continenti tranne l'Antartide le prime sepolture compaiono più di 100.000 anni fa le persone ora prestano attenzione intenzionale ai loro morti e li seppelliscono invece di sbarazzarsene semplicemente dato l'esiguo numero di sepolture documentate possiamo ipotizzare che Neandertal e Homo sapiens abbiano selezionato chi seppellire la comparsa di sepolture causa una scarsa conservazione delle scatole craniche nel tempo in precedenza venivano conservate negli habitat dei loro parenti e venivano ritrovate in condizioni migliori un frammento di meteorite di ferro del diametro di circa 20 metri si schianta sulla terra in Arizona a una velocità di 50.000 km orari il suo cratere di impatto chiamato meteor crater misura poco più di un chilometro di diametro e quasi 200 metri di profondità l'energia rilasciata durante l'impatto è colossale 150 milioni di tonnellate di roccia vengono espulse e si distribuiscono su 260 km quadrati l'onda d'urto travolge e polverizza tutto ciò che si trova in un raggio di circa 15 km l'area sarà ricolonizzata da organismi in un anno la scomparsa dell'uomo di Neandertal non è ancora ben nota secondo un'ipotesi quest'ultimo sarebbe scomparso gradualmente in seguito all'arrivo di gruppi di uomini moderni soprannominati uomini di Cro-Magnon si verifica una competizione sui territori per lo sfruttamento delle risorse e ne derivano conflitti violenti l'addomesticamento del cane per la caccia da parte dell'homo sapiens coincide con la scomparsa del Neandertal perché avrebbe dato un forte vantaggio ai primi nella ricerca del cibo alla fine dell'ultima era glaciale del quaternario la fauna e la flora si sviluppano alcune popolazioni umane si insediano e si interessano a nuove attività come la ceramica il vasellame l'agricoltura e l'allevamento l'agricoltura più antica si sviluppò nella mezzaluna fertile un'area geografica del medio oriente irrigata dai fiumi Giordano Eufrate Tigri e Nilo le società divennero più complesse gerarchiche e organizzate poiché ora detenevano scorte 9000 anni fa si formò lo stretto del bosforo tra il continente asiatico e quello europeo le acque del mar di marmara confluirono nel mar nero che fino ad allora era un lago d'acqua dolce profondo dai 30 ai 100 metri il Sahara il più grande deserto caldo nel nord del continente africano nel 6000 avanti Cristo offriva uno scenario completamente diverso gli 8,5 milioni di chilometri quadrati che copre erano all'epoca verdissimi come una gigantesca savana tropicale gazzelle ippopotami ed elefanti venivano ad abbeverarsi intorno ai laghi presenti questo è l'ultimo episodio verde o periodo umido africano che il Sahara vivrà legato all'inizio del periodo interglaciale durante il quale le abbondanti piogge bagnano la regione a partire dal 5500 avanti Cristo si verifica un cambiamento climatico e le piogge diventano rare la sabbia ricopre gradualmente l'intero Sahara e le specie tropicali lasciano il posto a specie adattate alle condizioni del deserto con lo sviluppo dell'agricoltura e del commercio diventa essenziale per gli uomini trovare un sistema di memoria che vada oltre il momento presente è in questo senso che compare la scrittura che segna la fine della preistoria e l'avvento della storia è in Mesopotamia una regione storica situata tra le rive dei fiumi Tigri ed Eufrate nel cuore dell'attuale Iraq che sono state trovate le prime tracce di scrittura intorno al 3500 avanti Cristo gli uomini usavano piccole tavolette per annotare il nome del proprietario e la quantità di merci lontano da una scrittura basata su un alfabeto i più antichi supporti trovati sono in forma di segni come pittogrammi e ideogrammi gradualmente i sumeri svilupparono tecniche per produrre una scrittura più avanzata la scrittura cuneiforme che si traduce con cunei incastrati tra loro per dare vita a segni solo nel XIV secolo avanti Cristo ogni segno corrispondeva a una lettera sebbene la scrittura sia apparsa in Mesopotamia qualche secolo prima altri popoli svilupparono i propri sistemi di scrittura gli egizi tra gli altri svilupparono geroglifici abbozzati su rotoli di papiro o di cuoio questo sistema di scrittura figurativa rappresenta oggetti come piante animali o figure umane e divine nell'antico Egitto gli uomini subiscono lo straripamento annuale del Nilo e decidono di sviluppare il primo calendario gli egiziani osservano che l'inizio dell'inondazione coincide con il giorno in cui la stella più luminosa del cielo è visibile nel bagliore del sole nascente determinarono quindi questo giorno come primo giorno dell'anno che fu poi diviso in tre stagioni per controllare il tempo e dare ritmo all'agricoltura sebbene imperfetto questo calendario rimase in uso per migliaia di anni prima di essere riformato da Giulio Cesare viene fondato il sito di Stonehenge situato nel sud dell'attuale Inghilterra santuario di un culto solare monumento funerario e osservatorio astronomico questo sito vede nell'anno 2400 avanti Cristo le sue prime grandi pietre a forma di cerchio perfetto di 33 metri di diametro questo monumento storico utilizza le conoscenze astronomiche e serve tra l'altro a osservare la posizione del sole per stabilire un calendario solare 3600 anni fa il vulcano di Santorini situato nel mare Geo erutta impiega appena 100 anni per risvegliarsi l'esplosione genera fino a 60 chilometri cubi di magma sotto forma di nube ardente pietre di pomice e ceneri vengono proiettate a 900 chilometri di distanza l'esplosione distrugge l'isola e il vulcano collassa su se stesso si forma una caldera e un gigantesco tsunami attraversa la parte orientale del mar mediterraneo nel 400 avanti Cristo un primo pensatore afferma che la terra non è immobile né al centro dell'universo filo laudi crotone astronomo matematico e filosofo considera la terra come un pianeta che ruota intorno al fuoco centrale diverso dal sole e situato al centro dell'universo è il padre del sistema eliocentrico per lui il sole la luna e i cinque pianeti visibili ruotano intorno a questo fuoco centrale la più famosa eruzione vulcanica del vesuvio ebbe luogo nell'anno 79 dopo Cristo all'inizio grandi esplosioni sono generate dal contatto dell'acqua con il magma che viene vaporizzato poco dopo il tappo di lava si polverizza espellendo frammenti a più di 30 chilometri di altezza ogni ora si accumulano 15 centimetri di ceneri e pietre pomice fino a quando il tappo collassa sotto il suo stesso peso e ricade in una nube piroclastica si verificarono diverse esplosioni che rovinarono Ercolano e Pompei la parola vulcano appare nel 1257 sull'isola di Lombok in Indonesia avviene l'eruzione del Samalas che rimarrà l'evento vulcanico più devastante finora conosciuto dopo l'eruzione la cenere vulcanica riflette i raggi solari e provoca un abbassamento delle temperature questo breve raffreddamento ha conseguenze dannose per le popolazioni nel 1543 una nuova visione dell'universo e della posizione della terra e dell'uomo al suo interno i metodi scientifici e la filosofia si evolvono da una rappresentazione geocentrica a una eliocentrica dell'universo appare l'opera delle rivoluzioni delle sfere celesti scritta da Nicolaus Copernicus sebbene fosse stata completata 13 anni prima ma il timore delle reazioni della chiesa e dello stato ne ritardò la pubblicazione la vera novità di quest'opera è che Copernico pose il sole al centro del sistema e che fece ruotare i pianeti compresa la terra intorno ad esso la rivoluzione copernicana cambia la rappresentazione del mondo rispetto al passato la matematica ha ora un ruolo speciale nella descrizione delle leggi fisiche dell'universo ore 12 meno alcuni centesimi di secondo la terra continua a muoversi il 22 maggio 1960 si verificò a Baldivia un mega terremoto di magnitudo 9,5 il più alto mai registrato la causa fu lo scivolamento della placca di Nazca sotto il blocco di Chiloé a una profondità di circa 18 metri il fondo dell'oceano si solleva quindi di 6 metri in questo punto e crea uno tsunami su tutta la parte cilena questo tsunami attraversa poi l'oceano pacifico fino a raggiungere le Hawaii e provoca danni impressionanti con onde alte da 10 a 12 metri successivamente lo tsunami raggiunge le coste giapponesi la Nuova Zelanda le Samoa le Filippine e le isole Marchesi la costa cilena fu profondamente modificata e il mega terremoto causò circa 4.000 morti e 2 milioni di senza tetto il 24 maggio 1960 due giorni dopo il vulcano Cordon Coie situato nel sud del Cile sulle Ande eruttò dopo oltre 25 anni di inattività furono prodotti 200 milioni di metri cubi di colate laviche e 60 milioni di metri cubi di tefra furono espulsi nell'aria ore 12 la Terra di oggi oggi la Terra rimane il quinto pianeta del sistema solare per diametro e massa orbita intorno al Sole in 365 giorni solari il suo asse di rotazione inclinato di 23 gradi provoca l'alternanza delle quattro stagioni la Luna il suo unico satellite naturale si trova a 384.000 km le placche tettoniche che compongono la litosfera continuano a muoversi di qualche centimetro ogni anno il 71% della sua superficie è coperto da acqua sotto forma di oceani laghi e fiumi le regioni polari sono in gran parte ricoperte di ghiaccio più di 7,9 miliardi di persone vivono sulla Terra e dipendono dalle sue risorse naturali la storia evolutiva della vita è stata costellata da periodi di espansione e di estinzione di massa motivo per cui il 99% delle specie che un tempo vivevano sulla Terra sono oggi estinte la storia della Terra non è come un lungo fiume tranquillo le forze della natura non danno tregua al nostro pianeta blu sconvolgendo ogni volta l'equilibrio che si era creato oggi alle forze della natura si aggiunge l'attività umana che porta a una perdita di biodiversità a una crisi climatica e ad eccessi ecologici mentre in passato l'uomo era una pedina dei fenomeni geologici oggi la sua attività influisce sul futuro del pianeta la storia della Terra è finita? no il prosieguo sembra ancora molto lungo e anche se la nostra conoscenza ci permette di prevedere alcuni eventi essa contiene l'inaspettato abbiamo scritto la storia della Terra fino alle ore 12 ci vediamo in futuro per scoprire cosa ci riserva la seconda parte del quadrante del quadrante frage la prima volta di riposile di riposile